Il Jobs Act non è tutto da buttare, è la considerazione del Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cosenza, Fabio Lavia, a margine della giornata di studio svoltasi a Rende. La nuova politica del lavoro, afferma sempre il Presidente Via, presenta sicuramente tre grandi positività per il nostro mercato del lavoro. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato diventa più appetibile rispetto alle altre forme contrattuali, in quanto prevede una premierità in termini di riduzione del costo del lavoro pari di oltre 8.000 euro all'anno per tre annualità. Sarà poca cosa rispetto alla legge 407 del 1990, ma c'è da dire comunque che tale nuova contrattualità apre la possibilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche ai giovani che si sono iscritti da poco nelle liste dei disoccupati. Secondo aspetto positivo, spiega il Presidente Fabio Lavia, riguarda la possibilità per il datore di lavoro di assegnare al lavoratore mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore quale alternativa al licenziamento. E poi c'è la spinosa questione dell'articolo 18. Prima dell'entrata in vigore del decreto esisteva una dicotomia tra imprese piccole e imprese di grandi dimensioni alle quali veniva applicato un diverso regime di tutela in caso di licenziamenti nulli o illegittimi. Con il contratto a tutele crescenti il decreto prevede solo un risarcimento economico per tutte le aziende, grandi o piccole, a fronte di un licenziamento per motivi economici che venga giudicato illegittimo. L'articolo 18 è stato uno dei motivi di non crescita per molte aziende che preferivano rimanere nell'alvio delle piccole imprese, proprio per evitare l'applicazione della tutela reale. Il nuovo decreto, conclude il Presidente Via, prevede l'applicabilità delle tutele crescenti in caso di aumento dell'organico anche ai vecchi assunti, quando cioè l'azienda passa da piccola a grande. Grazie all'introduzione di tale novità normativa molte delle nostre realtà aziendali potrebbero cogliere la palla al balzo per fare il salto di qualità.